Weee! Non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Weee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi ne avevamo già parlato alle mie spalle il sito più sicuro in assoluto su dove acquistare legalmente e senza rischio ban le skin di Fortnite. Lo conoscete tutti! FortniteStore.io È un amico, è una persona di cui vi potete fidare, quindi ragazzi fate un salto da lui se volete acquistare al 100% in maniera legale le vostre skin. Il video di oggi è fatto perché voglio ringraziarli per avermi dato un codice per riscattare la skin di Honor 20 ragazzi! una nuovissima skin arrivata appunto con il nuovo telefono di casa Honor! E quindi ragazzi proviamo insieme! Non so se sono il primo in Italia ad averla! Andiamo nella pagina relativa di Fortnite! Come vedete il mio account XIUDER YouTube! riscatta codice, inseriamo il codice che mi è stato fornito T9SA56QYGZ7C6KDXNR8 riscatta, WONDER, confermi di voler attivare questo codice sul tuo account? Sì, attiva, signori la proviamo, signori la proviamo, la voglio provare, apriamo Fortnite, apriamo in diretta Fortnite, apriamo, penso io non lo so raga se sono il primo in Italia ma sono emozionatissimo, sono emozionatissimo, avviamo! E attenzione, chissà che cosa succede ragazzi, chissà che cosa succede, intanto ve lo ricordo FortniteStore.io Oh, potete andare tranquillamente sulla fiducia ragazzi, un bel pollicione però eh, intanto un bel pollicione se vi sta piacendo questo video, se siete in hype tanto quanto lo sono io chiudiamo intanto la parte in alto che non ci interessa Ho le mani che, ho le mani che tremano Ho le mani che tremano ragazzi, attenzione, sta caricando, sta caricando Attenzione, attenzione, vediamo che cosa succede, ho paura, ho paura, ho un po' paura, ho un po' paura Piano, piano, siamo dentro raga, siamo dentro, ho paura Pronto, no way, no way ragazzi, costume meraviglia, no way, look at this, oh mio dio, prot Il backpack togliamoglielo subito, via il backpack, no raga, i like, i like per questo video raga, i like per questo video, non ci sto credendo, non ci sto credendo Guarda che roba, guarda che roba Mamma mia Mamma mia ragazzi, mamma mia ragazzi Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, ditemi come vi sembra questa skin Noi ci vediamo presto in live Ciao